Che cos'è l'Origins Bridge? L'Origins Bridge è un ponte edificio situato sull'Arno a Pisa che ospiterà un sistema integrato per la divulgazione d'avanguardia e allo stesso tempo degli spazi pubblici per la divulgazione scientifica e anche spazi di aggregazione. La prima sfida è quella di fornire infrastrutture di eccellenza per la ricerca di eccellenza. Questo è un dettato che ci viene dalla comunità europea che nel suo programma Quad Horizon 2020 chiarisce in maniera definitiva che la ricerca di eccellenza non può essere fatta in uno scantinato. Ha bisogno di una infrastruttura di pari eccellenza. Credo che sia un progetto che ha bisogno, proprio in questa fase assolutamente iniziale, del massimo del consenso, di essere consentiti del massimo, oltre che della tenacia, anche dell'entusiasmo. Allora, questo ponte l'abbiamo immaginato un po' come un qualcosa di vagamente animalesco acquattato sul fiume. È un carapace che nasconde, che chiude un'anima. Una diffusione della cultura nel senso più ampio, che comprende la cultura scientifica nel paese, è una precondizione per lo sviluppo e per la crescita culturale, economica e sociale del paese. Ci dovrà essere un soggetto dedicato. Pensiamo che sarà indispensabile creare un'entità giuridica ad hoc che abbia come missione quella di pianificare, realizzare e poi gestire l'infrastruttura. La città non può che essere molto interessata a questa scommessa, a questo coraggioso tentativo di guardare avanti e ce la metteremo tutta. Questo è un progetto veramente stimolante, uno dei pochi che mi possano essere capitati in ambito pisano, devo dire. E credo, e mi ci sono veramente buttata con affetto verso la città di Pisa, con estremo interesse scientifico. Grazie. Grazie. Grazie.